Anna, hai spiagge meravigliose e una vivace cultura locale? Sì, John. È noto per la sua musica vivace e i festival colorati. Anna, hai spiagge meravigliose e una vivace cultura locale? Sì, John. È noto per la sua musica vivace e i festival colorati. Sembra un posto perfetto per immergersi nella cultura locale. Possiamo rilassarci sulle bellissime spiagge e prendere il sole. Sembra un posto perfetto per immergersi nella cultura locale. Possiamo rilassarci sulle bellissime spiagge e prendere il sole. Sono entusiasta di esplorare le tradizioni e le usanze uniche di quella destinazione. Dovremmo provare la cucina locale e concederci deliziosi frutti di mare. Sono entusiasta di esplorare le tradizioni e le usanze uniche di quella destinazione. Dovremmo provare la cucina locale e concederci deliziosi frutti di mare. Dedichiamoci anche del tempo per visitare monumenti e musei storici E non possiamo perdere l'occasione di vivere l'energica vita notturna Dedichiamoci anche del tempo per visitare monumenti e musei storici E non possiamo perdere l'occasione di vivere l'energica vita notturna Sarà un'ottima occasione per conoscere le tradizioni e le danze locali. Mi assicurerò di immortalare i paesaggi mozzafiato, e le vivaci scene di strada. Sarà un'ottima occasione per conoscere le tradizioni e le danze locali. Mi assicurerò di immortalare i paesaggi mozzafiato, e le vivaci scene di strada. Dovremmo pianificare il nostro itinerario per sfruttare al massimo il nostro tempo lì. Cercherò i periodi migliori per visitarla, e gli eventuali eventi culturali imminenti. Dovremmo pianificare il nostro itinerario per sfruttare al massimo il nostro tempo lì. Cercherò i periodi migliori per visitarla, e gli eventuali eventi culturali imminenti. Non vedo l'ora di ammirare la bellezza delle spiagge e immergermi nell'atmosfera locale. Sarà un'avventura indimenticabile, John. Sfruttiamola al meglio. Non vedo l'ora di ammirare la bellezza delle spiagge e immergermi nell'atmosfera locale. Sarà un'avventura indimenticabile, John. Sfruttiamola al meglio. Sono grata di aver esplorato questa vibrante destinazione con te, Anna. Allo stesso modo, John. Abbracciamo la bellezza e la cultura di questo paradiso costiero. Allo stesso modo, John. Abbracciamo la bellezza e la cultura di questo paradiso costiero. Anna, ci proverò. Che tipo di domande devo fare? Dipende dalla situazione, John. Ti riferisci a un contesto specifico? Diciamo che sto incontrando qualcuno di nuovo. Quali domande possono aiutarmi a conoscerle? Puoi iniziare chiedendo informazioni sui loro interessi e hobby. Diciamo che sto incontrando qualcuno di nuovo. Quali domande possono aiutarmi a conoscerle? Puoi iniziare chiedendo informazioni sui loro interessi e hobby. Questa è una buona idea. Quali altre domande posso porre per iniziare una conversazione? Puoi chiedere informazioni sui loro libri, film o musica preferiti. Questa è una buona idea. Quali altre domande posso porre per iniziare una conversazione? Puoi chiedere informazioni sui loro libri, film o musica preferiti. Sono ottimi spunti di conversazione. Che ne dici di chiedere informazioni sui loro viaggi o esperienze? Sono ottimi spunti di conversazione. Che ne dici di chiedere informazioni sui loro viaggi o esperienze? Assolutamente, John. Chiedere informazioni sulle loro destinazioni di viaggio preferite o sulle esperienze memorabili può portare a discussioni interessanti. Che ne dici di chiedere informazioni sui loro obiettivi o aspirazioni? È una domanda ponderata, John. Può fornire informazioni sulle loro ambizioni e sui loro sogni. Che ne dici di chiedere informazioni sui loro obiettivi o aspirazioni? È una domanda ponderata, John. Può fornire informazioni sulle loro ambizioni e sui loro sogni. Dovrei anche chiedere informazioni sulla loro famiglia o sul loro passato, giusto? Sì, chiedere informazioni sulla loro famiglia o da dove vengono può aiutare ad approfondire il legame. Dovrei anche chiedere informazioni sulla loro famiglia o sul loro passato, giusto? Sì, chiedere informazioni sulla loro famiglia o da dove vengono può aiutare ad approfondire il legame. Ci sono domande che dovrei evitare di porre? È meglio evitare argomenti delicati come la politica o le finanze personali a meno che non vengano sollevati naturalmente nella conversazione. Ci sono domande che dovrei evitare di porre? È meglio evitare argomenti delicati come la politica o le finanze personali a meno che non vengano sollevati naturalmente nella conversazione. Lo terrò a mente. C'è qualcos'altro che dovrei considerare quando faccio domande? L'ascolto attivo è importante, John. Mostra un interesse sincero per le loro risposte e poni domande di follow up per mantenere la conversazione fluida. Lo terrò a mente. C'è qualcos'altro che dovrei considerare quando faccio domande? L'ascolto attivo è importante, John. Mostra un interesse sincero per le loro risposte e poni domande di follow up per mantenere la conversazione fluida. Grazie per il consiglio, Anna. Lo metterò in pratica e mi impegnerò in conversazioni significative. Benvenuto, John. Buona fortuna e sono sicuro che avrai ottime conversazioni con le tue domande ponderate. Grazie per il consiglio, Anna. Lo metterò in pratica e mi impegnerò in conversazioni significative. Benvenuto, John. Buona fortuna e sono sicuro che avrai ottime conversazioni con le tue domande ponderate. Anna, il viaggio. Sarà un'ottima fuga. Non potrei essere più d'accordo, John. Definiamo i dettagli. Per prima cosa, dobbiamo decidere le date del nostro viaggio. Una volta che abbiamo le date, possiamo prenotare i nostri voli e alloggi. Dovremo anche fare un elenco dei luoghi che vogliamo visitare. Assolutamente, John. Ricercare le attrazioni e creare un itinerario sarà utile. Dovremmo anche fare un elenco dei luoghi che vogliamo visitare. Assolutamente, John. Ricercare le attrazioni e creare un itinerario sarà utile. Consideriamo i documenti di viaggio o le vaccinazioni di cui potremmo aver bisogno. Ottima osservazione, John. Dovremmo verificare i requisiti per la nostra destinazione. Consideriamo i documenti di viaggio o le vaccinazioni di cui potremmo aver bisogno. Ottima osservazione, John. Dovremmo verificare i requisiti per la nostra destinazione. Dovremmo anche pensare alle opzioni di trasporto una volta arrivati. Che si tratti di noleggiare un'auto o utilizzare i mezzi pubblici, lo scopriremo. Dovremmo anche pensare alle opzioni di trasporto una volta arrivati. Che si tratti di noleggiare un'auto o utilizzare i mezzi pubblici, lo scopriremo. Non dimenticare di mettere in valigia oggetti essenziali come vestiti, articoli da toeletta e adattatori da viaggio. Farò una lista di controllo per assicurarmi di non dimenticare nulla di importante. Non dimenticare di mettere in valigia oggetti essenziali come vestiti, articoli da toeletta e adattatori da viaggio. Farò una lista di controllo per assicurarmi di non dimenticare nulla di importante. Dovremmo anche informare i nostri amici e familiari sui nostri piani di viaggio. Sì, fargli sapere il nostro itinerario darà loro tranquillità. Dovremmo anche informare i nostri amici e familiari sui nostri piani di viaggio. Sì, fargli sapere il nostro itinerario darà loro tranquillità. Ed è sempre una buona idea stipulare un'assicurazione di viaggio in caso di situazioni impreviste. D'accordo, John. La sicurezza dovrebbe essere una priorità durante il nostro viaggio. Ed è sempre una buona idea stipulare un'assicurazione di viaggio in caso di situazioni impreviste. Una volta sistemato tutto, possiamo aspettarci un'avventura memorabile. Sono emozionata, John. Sarà un viaggio incredibile insieme. Sono emozionata, John. Sarà un viaggio incredibile insieme. Sfruttiamo al massimo il nostro viaggio e creiamo ricordi per tutta la vita. Non potrei essere più d'accordo, John. Intraprendiamo questa avventura e godiamoci ogni momento. Anna, abilità. Sembra un incontro memorabile. Assolutamente, John. Incontrare persone con abilità uniche può lasciare un'impressione duratura. Anna, abilità. Sembra un incontro memorabile. Assolutamente, John. Incontrare persone con abilità uniche può lasciare un'impressione duratura. Hai mai incontrato qualcuno con abilità straordinarie? Sì, una volta ho incontrato un'artista di strada che poteva creare opere d'arte incredibili con la vernice spray. Hai mai incontrato qualcuno con abilità straordinarie? Sì, una volta ho incontrato un'artista di strada che poteva creare opere d'arte incredibili con la vernice spray. Deve essere stato affascinante da guardare. Hai riportato qualche loro opera d'arte? Purtroppo non ho avuto la possibilità di acquistarne nessuno, ma ho ricordi vividi del loro talento. Deve essere stato affascinante da guardare. Hai riportato qualche loro opera d'arte? Purtroppo non ho avuto la possibilità di acquistarne nessuno, ma ho ricordi vividi del loro talento. È incredibile come le abilità possano ispirarci e affascinarci. Sicuramente, John. Assistere all'esperienza di qualcuno può essere davvero impressionante. È incredibile come le abilità possano ispirarci e affascinarci. Sicuramente, John. Assistere all'esperienza di qualcuno può essere davvero impressionante. Hai mai provato a imparare una nuova abilità da solo? Sì, mi sono dilettato con la fotografia, ed è stata un'esperienza gratificante. Hai mai provato a imparare una nuova abilità da solo? Sì, mi sono dilettato con la fotografia, ed è stata un'esperienza gratificante. È meraviglioso, Anna. È fantastico esplorare nuovi hobby e sviluppare nuovi talenti. Assolutamente, John. Aggiunge profondità e ricchezza alla nostra vita. È meraviglioso, Anna. È fantastico esplorare nuovi hobby e sviluppare nuovi talenti. Assolutamente, John. Aggiunge profondità e ricchezza alla nostra vita. Credo che tutti abbiano abilità uniche che aspettano di essere scoperte. Sono d'accordo, John. È importante abbracciare le nostre passioni e coltivare i nostri talenti. Sono d'accordo, John. È importante abbracciare le nostre passioni e coltivare i nostri talenti. Incontrare persone qualificate può motivarci a sviluppare ulteriormente le nostre capacità. Ci ricorda che possiamo imparare e crescere continuamente per tutta la vita. Incontrare persone qualificate può motivarci a sviluppare ulteriormente le nostre capacità. Ci ricorda che possiamo imparare e crescere continuamente per tutta la vita. Apprezziamo gli incontri con persone qualificate e lasciamoci ispirare dalla loro esperienza. Non potrei essere più d'accordo, John. Continuiamo ad apprezzare e coltivare le nostre capacità. Anna, sembra divertente. Sei riuscito a farla scendere sana e salva? Sì, John. Era una situazione piuttosto divertente, ma abbiamo assicurato la sua sicurezza. Anna, sembra divertente. Sei riuscito a farla scendere sana e salva? Sì, John. Era una situazione piuttosto divertente, ma abbiamo assicurato la sua sicurezza. Come è finita in quella situazione in primo luogo? Stava cercando di recuperare un aquilone bloccato su un albero, e si è incastrata lei stessa. Deve essere stato uno spettacolo da vedere. Come l'hai salvata? Abbiamo usato una scala e l'abbiamo guidata attentamente giù passo dopo passo. Sono contenta che non si sia fatta male. L'ha trovato divertente dopo? Assolutamente, John. Ha riso in faccia e ha visto l'umorismo della situazione. Sono momenti come questi che creano ricordi duraturi e storie divertenti. Davvero, John. È un promemoria per abbracciare l'inaspettato e trovare gioia nelle piccole disavventure. Sono contento che tutto sia andato bene e sia diventato un ricordo divertente. È stata sicuramente un'avventura, John. Ridecchieremo sempre quando ci pensiamo. Sono contento che tutto sia andato bene e sia diventato un ricordo divertente. È stata sicuramente un'avventura, John. Ridecchieremo sempre quando ci pensiamo. Facciamo tesoro di questi momenti spensierati che fanno ridere le nostre vite. Non potrei essere più d'accordo, John. La risata è un dono prezioso che ci unisce tutti. Anna, per rimanere sempre connessa. Esattamente. Sento che mi sto perdendo qualcosa. È comprensibile, John. La paura di perdere qualcosa può essere abbastanza comune nell'era digitale. Anna, per rimanere sempre connessa. Esattamente. Sento che mi sto perdendo qualcosa. È comprensibile, John. La paura di perdere qualcosa può essere abbastanza comune nell'era digitale. A volte vedo i miei amici pubblicare post su eventi o raduni e vorrei poter essere lì. I social media possono darci un'idea della vita di altre persone, ma è importante ricordare che sono solo un momento clou. A volte vedo i miei amici pubblicare post su eventi o raduni e vorrei poter essere lì. I social media possono darci un'idea della vita di altre persone, ma è importante ricordare che sono solo un momento clou. È vero, Anna. È facile paragonarci e sentire che ci stiamo perdendo delle esperienze. Invece di soffermarci su ciò che ci manca, concentriamoci sul trarre il massimo dalla nostra vita. È vero, Anna. È facile paragonarci e sentire che ci stiamo perdendo delle esperienze. Invece di soffermarci su ciò che ci manca, concentriamoci sul trarre il massimo dalla nostra vita. Hai ragione, Anna. Dovremmo apprezzare i momenti che abbiamo e creare le nostre esperienze significative. Esattamente, John. Si tratta di trovare gioia nel presente e apprezzare ciò che abbiamo. Hai ragione, Anna. Dovremmo apprezzare i momenti che abbiamo e creare le nostre esperienze significative. Esattamente, John. Si tratta di trovare gioia nel presente e apprezzare ciò che abbiamo. Cercherò di essere più presente e di cogliere le opportunità che mi si presentano. È un'ottima mentalità, John. Cogli i momenti e falli contare. Cercherò di essere più presente e di cogliere le opportunità che mi si presentano. È un'ottima mentalità, John. Cogli i momenti e falli contare. Mi impegnerò anche a contattare e connettermi direttamente con gli amici. È un'idea meravigliosa, John. Le connessioni autentiche sono più preziose di quelle virtuali. Mi impegnerò anche a contattare e connettermi direttamente con gli amici. È un'idea meravigliosa, John. Le connessioni autentiche sono più preziose di quelle virtuali. Concentriamoci sul vivere la nostra vita al massimo e coltivare le relazioni che contano. Non potrei essere più d'accordo, John. Rimaniamo in contatto con ciò che ci porta veramente gioia e appagamento. Concentriamoci sul vivere la nostra vita al massimo e coltivare le relazioni che contano. Non potrei essere più d'accordo, John. Rimaniamo in contatto con ciò che ci porta veramente gioia e appagamento. Anna, potresti provare una pianta resistente alla scarsa illuminazione come una pianta serpente o un potos? È un ottimo suggerimento, John. Volevo portare un po' di verde in casa mia. Anna, potresti provare una pianta resistente alla scarsa illuminazione come una pianta serpente o un potos? È un ottimo suggerimento, John. Volevo portare un po' di verde in casa mia. Le piante da appartamento possono aggiungere un tocco di natura e migliorare la qualità dell'aria nel tuo spazio abitativo. Adoro l'idea di avere delle piante intorno, ma sono preoccupata di non avere abbastanza luce solare. Le piante da appartamento possono aggiungere un tocco di natura e migliorare la qualità dell'aria nel tuo spazio abitativo. Adoro l'idea di avere delle piante intorno, ma sono preoccupata di non avere abbastanza luce solare. È qui che entrano in gioco le piante resistenti alla scarsa illuminazione. Possono prosperare in varie condizioni di illuminazione. È qui che entrano in gioco le piante resistenti alla scarsa illuminazione. Possono prosperare in varie condizioni di illuminazione. Cercherò sicuramente di procurarmi una pianta serpente o un potos. Sono facili da curare? Sì, richiedono una manutenzione relativamente ridotta. Non richiedono annaffiature frequenti o luce solare diretta. È perfetto per me. Voglio piante che possano sopravvivere anche se a volte dimentico di annaffiarle. Le piante di serpente e i potos sono noti per la loro resilienza, quindi dovrebbero adattarsi bene. Sono entusiasta di portare un po' di verde in casa mia, e provare i vantaggi di avere delle piante. Le piante di serpente e i potos sono noti per la loro resilienza, quindi dovrebbero adattarsi bene. Sono entusiasta di portare un po' di verde in casa mia, e provare i vantaggi di avere delle piante. Creerà un'atmosfera rinfrescante e rilassante. Inoltre, le piante possono essere ottime compagne. Sono d'accordo, John. Portano vita e un senso di tranquillità in qualsiasi spazio. Ti godrà il processo di nutrimento e osservazione delle tue piante crescere. Non vedo l'ora di iniziare. Grazie per il suggerimento, John. Ti godrà il processo di nutrimento e osservazione delle tue piante crescere. Non vedo l'ora di iniziare. Grazie per il suggerimento, John. Anna, ieri è stato fantastico. Qualche consiglio? Voglio provare qualcosa di nuovo. Ottimo, John. Che ne dici di esplorare una nuova cucina o provare un ristorante diverso? Ottimo, John. Che ne dici di esplorare una nuova cucina o provare un ristorante diverso? Sembra eccitante. Qualche cucina specifica che consiglieresti? Che ne dici di provare la cucina tailandese o vietnamita? Hanno sapori deliziosi e piatti unici. Questa è un'ottima idea. Non ho mai provato cibo tailandese o vietnamita prima. Ti aspetta una sorpresa, John. I loro piatti sono noti per il loro equilibrio di sapori e spezie aromatiche. Questa è un'ottima idea. Non ho mai provato cibo tailandese o vietnamita prima. Ti aspetta una sorpresa, John. I loro piatti sono noti per il loro equilibrio di sapori e spezie aromatiche. Avete consigli sui ristoranti per la cucina tailandese o vietnamita? Per i thailandesi, potresti provare Thai Delight o Spice of Siam. E per i vietnamiti, Four House è altamente raccomandata. Per i thailandesi, potresti provare Thai Delight o Spice of Siam. E per i vietnamiti, Four House è altamente raccomandata. Li controllerò sicuramente. Non vedo l'ora di provare nuovi sapori. È sempre divertente esplorare cucine diverse e rispandere i nostri orizzonti culinari. Li controllerò sicuramente. Non vedo l'ora di provare nuovi sapori. È sempre divertente esplorare cucine diverse e rispandere i nostri orizzonti culinari. Sono d'accordo, Anna. È un ottimo modo per conoscere culture diverse attraverso il cibo. Non dimenticare di provare alcuni piatti esclusivi come il Pad Thai o il Ben Ami. Sono d'accordo, Anna. È un ottimo modo per conoscere culture diverse attraverso il cibo. Non dimenticare di provare alcuni piatti esclusivi come il Pad Thai o il Ben Ami. Mi assicurerò di assaggiarli. Grazie per i consigli, Anna. Benvenuto, John. Goditi la tua avventura culinaria. Mi assicurerò di assaggiarli. Grazie per i consigli, Anna. Benvenuto, John. Goditi la tua avventura culinaria. Lo farò. Non vedo l'ora di provare qualcosa di nuovo e assaporare sapori deliziosi. Buon appetito, John. Spero che tu abbia una fantastica esperienza culinaria. Anna, sembra interessante. Dovrei provarlo. Hai qualche consiglio per rimanere attivo? Assolutamente, John. Trova attività che ti piacciono, come camminare, ballare o praticare uno sport. Anna, sembra interessante. Dovrei provarlo. Hai qualche consiglio per rimanere attivo? Assolutamente, John. Trova attività che ti piacciono, come camminare, ballare o praticare uno sport. Esplorerò sicuramente diverse attività e vedrò cosa mi piace di più. Ottimo approccio, John. È più facile rimanere attivi quando ci si diverte. Qualche consiglio su come rimanere motivati e fare dell'esercizio un'abitudine regolare? Stabilire degli obiettivi e creare una routine può aiutare, John. Inizia in piccolo e aumenta gradualmente il livello di attività. Qualche consiglio su come rimanere motivati e fare dell'esercizio un'abitudine regolare? Stabilire degli obiettivi e creare una routine può aiutare, John. Inizia in piccolo e aumenta gradualmente il livello di attività. Mi assicurerò di fissare obiettivi realistici e di incorporare l'esercizio nella mia routine quotidiana. Questa è la strada da percorrere, John. Mi assicurerò di fissare obiettivi realistici e di incorporare l'esercizio nella mia routine quotidiana. Questa è la strada da percorrere, John. La coerenza è fondamentale quando si tratta di rimanere attivi. Che ne dici di rimanere motivato durante quei giorni in cui mi sento meno energico? Nei giorni in cui ti manca l'energia, prova attività delicate come lo stretching o lo yoga per continuare a muoverti. Che ne dici di rimanere motivato durante quei giorni in cui mi sento meno energico? Nei giorni in cui ti manca l'energia, prova attività delicate come lo stretching o lo yoga per continuare a muoverti. Questa è una buona idea. Posso ancora essere attivo senza sforzarmi troppo? Esattamente, John. È importante ascoltare il proprio corpo e trovare un equilibrio tra sforzo e riposo. Questa è una buona idea. Posso ancora essere attivo senza sforzarmi troppo? Esattamente, John. È importante ascoltare il proprio corpo e trovare un equilibrio tra sforzo e riposo. Me lo ricorderò. Si tratta di prendermi cura del mio corpo e godermi il processo. Assolutamente, John. Ricordati di rimanere idratato e di nutrirti anche con cibi sani. Me lo ricorderò. Si tratta di prendermi cura del mio corpo e godermi il processo. Assolutamente, John. Ricordati di rimanere idratato e di nutrirti anche con cibi sani. Grazie per i suggerimenti, Anna. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio per rimanere attivo. Benvenuto, John. Goditi i benefici di uno stile di vita attivo e divertiti lungo la strada. Anna, ho davvero bisogno di nuovi occhiali da sole per l'estate. Il mio si è rotto la settimana scorsa. Oh no, John. È importante proteggere gli occhi dal sole. Hai preso in considerazione gli occhiali da sole polarizzati? Anna, ho davvero bisogno di nuovi occhiali da sole per l'estate. Il mio si è rotto la settimana scorsa. È un buon suggerimento, Anna. È un buon suggerimento, Anna. Ho sentito che riducono i riflessi e proteggono meglio gli occhi. È un buon suggerimento, Anna. Ho sentito che riducono i riflessi e proteggono meglio gli occhi. Lo fanno, John. Gli occhiali da sole polarizzati possono migliorare la chiarezza visiva e rendere più piacevoli le attività all'aperto. Dove posso trovare occhiali da sole polarizzati di buona qualità? Puoi dare un'occhiata ai negozi di ottica, o persino cercare online un'ampia varietà di opzioni, John. Dove posso trovare occhiali da sole polarizzati di buona qualità? Puoi dare un'occhiata ai negozi di ottica, o persino cercare online un'ampia varietà di opzioni, John. Farò qualche ricerca e cercherò un paio adatto al mio stile e che offra protezione dai raggi UV. È un approccio intelligente, John. La protezione dei raggi UV è fondamentale per proteggere gli occhi dai dannosi raggi solari. Farò qualche ricerca e cercherò un paio adatto al mio stile e che offra protezione dai raggi UV. È un approccio intelligente, John. La protezione dei raggi UV è fondamentale per proteggere gli occhi dai dannosi raggi solari. Hai qualche consiglio per scegliere gli occhiali da sole giusti per la forma del mio viso? Considera la forma del tuo viso, John. Ad esempio, le cornici quadrate possono completare le facce rotonde, mentre le cornici rotonde possono ammorbidire le facce angolari. Hai qualche consiglio per scegliere gli occhiali da sole giusti per la forma del mio viso? Considera la forma del tuo viso, John. Ad esempio, le cornici quadrate possono completare le facce rotonde, mentre le cornici rotonde possono ammorbidire le facce angolari. Lo terrò a mente e proverò diversi stili per vedere cosa mi sta meglio. Lo terrò a mente e proverò diversi stili per vedere cosa mi sta meglio. Sperimentare è fondamentale, John. Trovane un paio che non solo protegga i tuoi occhi ma che ti faccia anche sentire sicuro. Grazie per il consiglio, Anna. Sono entusiasta di trovare gli occhiali da sole perfetti per l'estate. Benvenuto, John. Goditi le prossime giornate di sole con i tuoi occhiali da sole eleganti e protettivi. Grazie per il consiglio, Anna. Sono entusiasta di trovare gli occhiali da sole perfetti per l'estate. Benvenuto, John. Goditi le prossime giornate di sole con i tuoi occhiali da sole eleganti e protettivi. Anna, ho comprato delle mele come sostituto. È una buona idea, John. Le mele sono versatili e possono essere utilizzate in varie ricette. Ho pensato che potessero essere un'opzione salutare per spuntini o da aggiungere alle insalate. Assolutamente, John. Forniscono una buona quantità di fibre e sostanze nutritive. Ho pensato che potessero essere un'opzione salutare per spuntini o da aggiungere alle insalate. Assolutamente, John. Forniscono una buona quantità di fibre e sostanze nutritive. Ti serviva qualcosa dal negozio? A dire il vero, potrei usare degli spinaci freschi e dei pomodorini. Ti serviva qualcosa dal negozio? A dire il vero, potrei usare degli spinaci freschi e dei pomodorini. Va bene, li aggiungerò alla lista della spesa. Va bene, li aggiungerò alla lista della spesa. Grazie, John. Lo apprezzo. Nessun problema, Anna. Avremo una cucina ben fornita in pochissimo tempo. È sempre bene avere a portata di mano una varietà di ingredienti per cucinare. Nessun problema, Anna. Avremo una cucina ben fornita in pochissimo tempo. È sempre bene avere a portata di mano una varietà di ingredienti per cucinare. Sono d'accordo, Anna. Ci permette di essere creativi in cucina. Ed è più comodo quando non dobbiamo fare frequenti viaggi al negozio. Sono d'accordo, Anna. Ci permette di essere creativi in cucina. Ed è più comodo quando non dobbiamo fare frequenti viaggi al negozio. Sicuramente. Avere una dispensa e un frigorifero ben forniti semplifica anche la pianificazione dei pasti. Lo fa, John. Possiamo preparare pasti deliziosi e nutrienti senza troppi problemi. Sono contento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Facciamo in modo di tenere la nostra cucina rifornita. Sembra un piano, John. Ti aspettano pasti gustosi e una cucina ben fornita. Sono contento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Facciamo in modo di tenere la nostra cucina rifornita. Sembra un piano, John. Ti aspettano pasti gustosi e una cucina ben fornita. Anna, devo trovare qualcosa di speciale. Abbigliamento formale, perfetto. È emozionante, John. Hai in mente un'occasione specifica? Anna, devo trovare qualcosa di speciale. Abbigliamento formale, perfetto. È emozionante, John. Hai in mente un'occasione specifica? Sì, ho un matrimonio a cui partecipare il mese prossimo e voglio vestirmi per stupire. Un matrimonio richiede un outfit elegante e di classe. Hai preso in considerazione un abito o un abito formale? Sì, ho un matrimonio a cui partecipare il mese prossimo e voglio vestirmi per stupire. Un matrimonio richiede un outfit elegante e di classe. Hai preso in considerazione un abito o un abito formale? Stavo pensando di indossare un completo. È una scelta classica per eventi formali. Ottima scelta, John. Assicurati di averne uno che si adatti bene a te e che si abbini al tuo stile. Stavo pensando di indossare un completo. È una scelta classica per eventi formali. Ottima scelta, John. Assicurati di averne uno che si adatti bene a te e che si abbini al tuo stile. Qualche consiglio su dove posso trovare un buon abito? Puoi dare un'occhiata a negozi di abbigliamento rinomati o anche prendere in considerazione l'idea di acquistarne uno su misura per una vestibilità perfetta. Qualche consiglio su dove posso trovare un buon abito? Puoi dare un'occhiata a negozi di abbigliamento rinomati o anche prendere in considerazione l'idea di acquistarne uno su misura per una vestibilità perfetta. La sartoria sembra una buona idea. Mi assicurerebbe che la tuta mi stia bene. Assolutamente, John. Un abito su misura può fare una differenza significativa nel tuo aspetto generale. La sartoria sembra una buona idea. Mi assicurerebbe che la tuta mi stia bene. Assolutamente, John. Un abito su misura può fare una differenza significativa nel tuo aspetto generale. Prenderò un appuntamento con un sarto e inizierò a cercare l'abito perfetto. Questo è lo spirito, John. Goditi il processo di ricerca di qualcosa di speciale e di apparire al meglio. Prenderò un appuntamento con un sarto e inizierò a cercare l'abito perfetto. Questo è lo spirito, John. Goditi il processo di ricerca di qualcosa di speciale e di apparire al meglio. Grazie per il consiglio, Anna. Voglio fare un'impressione duratura al matrimonio. Benvenuto, John. Sono sicuro che troverai un abito fantastico che si adatta perfettamente a te. Non resta che trovare l'abbigliamento perfetto e celebrare momenti speciali con stile. Grazie per questo, John. Che tu possa indossare il tuo abbigliamento formale e divertirti al matrimonio. Non resta che trovare l'abbigliamento perfetto e celebrare momenti speciali con stile. Grazie per questo, John. Che tu possa indossare il tuo abbigliamento formale e divertirti al matrimonio. Anna, stavo pensando di andarci il mese prossimo. Che ne dici di te? Sembra eccitante, John. Dove pensi di andare? Anna, stavo pensando di andarci il mese prossimo. Che ne dici di te? Sembra eccitante, John. Dove pensi di andare? Sto considerando una destinazione balneare. Un posto con acque cristalline e spiagge di sabbia bianca. Sembra adorabile, John. Hai cercato luoghi specifici? Sto considerando una destinazione balneare. Un posto con acque cristalline e spiagge di sabbia bianca. Sembra adorabile, John. Hai cercato luoghi specifici? Ho cercato isole tropicali o città costiere con viste pittoresche. Sembra una vacanza da sogno, John. Preferisci un paese o una regione specifici? Ho cercato isole tropicali o città costiere con viste pittoresche. Sembra una vacanza da sogno, John. Preferisci un paese o una regione specifici? Sono aperto a suggerimenti, Anna. Voglio esplorare posti nuovi e conoscere culture diverse. Che ne dici del sud-est asiatico? Paesi come la Thailandia o l'Indonesia hanno meravigliose destinazioni balneari. Che ne dici del sud-est asiatico? Paesi come la Thailandia o l'Indonesia hanno meravigliose destinazioni balneari. Ottima idea, Anna. Ho sentito cose incredibili sulle spiagge di quella regione. È una scelta popolare per gli amanti della spiaggia, John. Avrai molte opzioni tra cui scegliere. Inizierò a fare ulteriori ricerche sul sud-est asiatico e cercherò la destinazione balneare perfetta. È un approccio intelligente, John. Prenditi il tuo tempo e trova un posto che ti piaccia. Inizierò a fare ulteriori ricerche sul sud-est asiatico e cercherò la destinazione balneare perfetta. È un approccio intelligente, John. Prenditi il tuo tempo e trova un posto che ti piaccia. Grazie per il suggerimento, Anna. Sono entusiasta di questo viaggio imminente. Benvenuto, John. Goditi il processo di pianificazione e divertiti alla grande durante la tua vacanza al mare. Grazie per il suggerimento, Anna. Sono entusiasta di questo viaggio imminente. Benvenuto, John. Goditi il processo di pianificazione e divertiti alla grande durante la tua vacanza al mare. Lo farò, Anna. Ecco nuove avventure ed esperienze memorabili. Grazie per questo, John. Che il tuo viaggio sia pieno di sole, relax e ricordi meravigliosi. Anna, ne abbiamo sicuramente bisogno per rimanere in contatto. Avete trovato delle opzioni adatte? Sì, John. Ho esaminato diversi piani e provider wireless. Anna, ne abbiamo sicuramente bisogno per rimanere in contatto. Avete trovato delle opzioni adatte? Sì, John. Ho esaminato diversi piani e provider wireless. Buona idea, Anna. Abbiamo bisogno di una connessione affidabile ovunque andiamo. Sono d'accordo, John. È importante avere accesso a internet per la comunicazione e l'accesso alle informazioni. Buona idea, Anna. Abbiamo bisogno di una connessione affidabile ovunque andiamo. Sono d'accordo, John. È importante avere accesso a internet per la comunicazione e l'accesso alle informazioni. Hai trovato piani con una buona copertura e prezzi convenienti? Ho trovato alcune opzioni, John. Alcuni provider offrono dati limitati e copertura a livello nazionale. Un numero illimitato di dati sarebbe fantastico, Anna. Non dovremo preoccuparci di rimanere senza soldi durante il viaggio. È vero, John. Offre tranquillità e ci consente di rimanere in contatto senza restrizioni. Un numero illimitato di dati sarebbe fantastico, Anna. Non dovremo preoccuparci di rimanere senza soldi durante il viaggio. È vero, John. Offre tranquillità e ci consente di rimanere in contatto senza restrizioni. Hai qualche consiglio per fornitori specifici? Ho sentito recensioni positive su alcuni dei principali corrieri, ma è meglio confrontare piani e prezzi. Farò qualche ricerca e confronterò le opzioni prima di prendere una decisione. È un approccio intelligente, John. Prenditi il tuo tempo e scegli un piano adatto alle tue esigenze. Farò qualche ricerca e confronterò le opzioni prima di prendere una decisione. È un approccio intelligente, John. Prenditi il tuo tempo e scegli un piano adatto alle tue esigenze. Grazie per il consiglio, Anna. Voglio assicurarmi di avere una connessione affidabile durante i nostri viaggi. Benvenuto, John. Rimanere connessi è essenziale, soprattutto quando si esplorano nuovi posti. Grazie per il consiglio, Anna. Voglio assicurarmi di avere una connessione affidabile durante i nostri viaggi. Benvenuto, John. Rimanere connessi è essenziale, soprattutto quando si esplorano nuovi posti. Assolutamente, Anna. Alla ricerca di un piano wireless affidabile per una comunicazione senza interruzioni. Grazie per questo, John. Ci auguriamo di rimanere in contatto e condividere le nostre avventure con facilità. Assolutamente, Anna. Alla ricerca di un piano wireless affidabile per una comunicazione senza interruzioni. Grazie per questo, John. Ci auguriamo di rimanere in contatto e condividere le nostre avventure con facilità. Anna, tagli di carne. È comprensibile. Anch'io potrei fare un tentativo. Ottimo, John. Conoscere i diversi tagli può migliorare le tue abilità culinarie. Mi sono sempre attenuto alle basi, ma voglio ampliare i miei orizzonti culinari. L'esplorazione di diversi tagli di carne aggiungerà sicuramente varietà ai tuoi pasti. Mi sono sempre attenuto alle basi, ma voglio ampliare i miei orizzonti culinari. L'esplorazione di diversi tagli di carne aggiungerà sicuramente varietà ai tuoi pasti. Quali tagli consigliate a chi vuole sperimentare? Inizia con tagli versatili come petti di pollo, costolette di maiale o controfiletto di manzo. Quali tagli consigliate a chi vuole sperimentare? Inizia con tagli versatili come petti di pollo, costolette di maiale o controfiletto di manzo. Sembrano buone opzioni, Anna. Esistono metodi di cottura specifici per ogni taglio? Sì, John. I petti di pollo sono ottimi per grigliare, mentre le costolette di maiale possono essere scottate in padella o cotte al forno. Sembrano buone opzioni, Anna. Esistono metodi di cottura specifici per ogni taglio? Sì, John. I petti di pollo sono ottimi per grigliare, mentre le costolette di maiale possono essere scottate in padella o cotte al forno. E il controfiletto di manzo? Il controfiletto di manzo può essere grigliato, arrostito o usato per saltare in padella. E il controfiletto di manzo? Il controfiletto di manzo può essere grigliato, arrostito o usato per saltare in padella. Proverò questi tagli e sperimenterò diversi metodi di cottura. Questo è lo spirito, John. Divertiti e non aver paura di essere creativo in cucina. Proverò questi tagli e sperimenterò diversi metodi di cottura. Questo è lo spirito, John. Divertiti e non aver paura di essere creativo in cucina. Grazie per la guida, Anna. Sono entusiasta di esplorare nuovi sapori e tecniche. Benvenuto, John. Goditi il viaggio alla scoperta di deliziosi piatti con diversi tagli di carne. Grazie per la guida, Anna. Sono entusiasta di esplorare nuovi sapori e tecniche. Benvenuto, John. Goditi il viaggio alla scoperta di deliziosi piatti con diversi tagli di carne. Ecco le avventure culinarie e i piatti appetitosi. Salute, John. Che i vostri esperimenti in cucina portino a pasti gustosi e soddisfacenti. Ecco le avventure culinarie e i piatti appetitosi. Salute, John. Che i vostri esperimenti in cucina portino a pasti gustosi e soddisfacenti. Anna, Bali. Sembra fantastico. Avete suggerimenti o raccomandazioni? Sì, John. Bali è una bellissima isola con spiagge meravigliose e ricche esperienze culturale. Ci sono attrazioni o attività specifiche che suggerisci di visitare? Non perderti tempi iconici come Uluotu e Tonalot ed esplora le terrazze di riso di Ubud. Ci sono attrazioni o attività specifiche che suggerisci di visitare? Non perderti tempi iconici come Uluotu e Tonalot ed esplora le terrazze di riso di Ubud. Sembra incredibile, Anna. Qualche consiglio per attività avventurose? Puoi provare a fare surf acuta, fare snorkeling a Nusa Lembongan o fare escursioni sul Monte Boter. Puoi provare a fare surf acuta, fare snorkeling a Nusa Lembongan o fare escursioni sul Monte Boter. Li aggiungerò sicuramente al mio itinerario, Anna. Che ne dici della cucina locale? La cucina bolognese è saporita e varia. Non perdetevi di provare piatti come Nasi Goreng e Babi Gulling. Li aggiungerò sicuramente al mio itinerario, Anna. Che ne dici della cucina locale? La cucina bolognese è saporita e varia. Non perdetevi di provare piatti come Nasi Goreng e Babi Gulling. Mi assicurerò di assaporare i sapori locali, Anna. Qualche altro suggerimento? Mi assicurerò di assaporare i sapori locali, Anna. Qualche altro suggerimento? Prenditi del tempo per rilassarti sulle splendide spiagge e provare gli esclusivi trattamenti termali balinesi. Grazie per i consigli, Anna. Non vedo l'ora di esplorare la bellezza e la cultura di Bali. Benvenuto, John. Bali ti lascerà sicuramente un'impressione duratura. Goditi il viaggio. Grazie per i consigli, Anna. Non vedo l'ora di esplorare la bellezza e la cultura di Bali. Benvenuto, John. Bali ti lascerà sicuramente un'impressione duratura. Goditi il viaggio. Lo farò, Anna. Alla scoperta di esperienze indimenticabili e alla bellezza di Bali. Assolutamente, John. Possa il tuo viaggio a Bali essere pieno di momenti meravigliosi e ricordi preziosi. Anna, leggi le recensioni per trovare le migliori offerte. Ovviamente, esaminerò anche alcuni consigli locali. È un approccio intelligente, John. Le recensioni possono fornire informazioni preziose fornite da altri viaggiatori. Anna, leggi le recensioni per trovare le migliori offerte. Ovviamente, esaminerò anche alcuni consigli locali. È un approccio intelligente, John. Le recensioni possono fornire informazioni preziose fornite da altri viaggiatori. Voglio assicurarmi di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo, Anna. Assolutamente, John. La ricerca e il confronto dei prezzi possono aiutarti a trovare ottime offerte. Voglio assicurarmi di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo, Anna. Assolutamente, John. La ricerca e il confronto dei prezzi possono aiutarti a trovare ottime offerte. Ci sono siti web o piattaforme specifici che consigli per leggere le recensioni? Tripadisorebooking.com sono piattaforme popolari per leggere le recensioni e confrontare i prezzi. Li controllerò, Anna. Qualche altro consiglio per trovare le migliori offerte? Vale anche la pena controllare direttamente i siti web di hotel e compagnie aeree per eventuali promozioni o sconti. Li controllerò, Anna. Qualche altro consiglio per trovare le migliori offerte? Vale anche la pena controllare direttamente i siti web di hotel e compagnie aeree per eventuali promozioni o sconti. Lo terrò a mente, Anna. Voglio sfruttare al massimo il mio budget di viaggio. È una decisione saggia, John. Ti consente di avere più risorse per altre esperienze durante il viaggio. Lo terrò a mente, Anna. Voglio sfruttare al massimo il mio budget di viaggio. È una decisione saggia, John. Ti consente di avere più risorse per altre esperienze durante il viaggio. Grazie per il consiglio, Anna. Farò le mie ricerche e troverò le migliori offerte per il mio prossimo viaggio. Benvenuto, John. Buon affare a caccia e che tu possa trovare fantastiche offerte per i tuoi viaggi. Grazie per il consiglio, Anna. Farò le mie ricerche e troverò le migliori offerte per il mio prossimo viaggio. Benvenuto, John. Buon affare a caccia e che tu possa trovare fantastiche offerte per i tuoi viaggi. Lo apprezzo, Anna. Non resta che trovare ottime offerte e massimizzare l'esperienza di viaggio. Salute, John. Possano i tuoi sforzi per trovare le migliori offerte portarti ad avventure incredibili e ricordi indimenticabili. Lo apprezzo, Anna. Non resta che trovare ottime offerte e massimizzare l'esperienza di viaggio. Salute, John. Possano i tuoi sforzi per trovare le migliori offerte portarti ad avventure incredibili e ricordi indimenticabili. Anna, assolutamente. Ho sentito dire che è incredibile. Hai esaminato qualche meraviglia naturale specifica? Anna, assolutamente. Ho sentito dire che è incredibile. Hai esaminato qualche meraviglia naturale specifica? Sì, John. Ci sono così tanti posti mozzafiato da esplorare. Uno che ha attirato la mia attenzione è il Grand Canyon. Anche il Grand Canyon è nella mia lista dei desideri, Anna. Qualche altra meraviglia naturale che mi consigliate? Anche il Grand Canyon è nella mia lista dei desideri, Anna. Qualche altra meraviglia naturale che mi consigliate? Un altro sito straordinario è la Grande Barriera Corallina in Australia. È noto per la sua vivace vita marina. Sembra fantastico, Anna. Anche a me interessa vedere l'aurora boreale. Hai fatto delle ricerche su questo? Sì, John. L'aurora boreale, nota anche come aurora boreale, può essere vista in luoghi come l'Islanda e la Norvegia. Sembra fantastico, Anna. Anche a me interessa vedere l'aurora boreale. Hai fatto delle ricerche su questo? Sì, John. L'aurora boreale, nota anche come aurora boreale, può essere vista in luoghi come l'Islanda e la Norvegia. Sicuramente esaminerò quelle destinazioni, Anna. Ci sono altre meraviglie naturali che suggerisci? Machu Picchu in Peru è una straordinaria città antica immersa nelle Ande. Machu Picchu sembra affascinante, Anna. Lo aggiungerò alla mia lista di luoghi imperdibili. Ottima scelta, John. Le meraviglie della natura non finiscono mai di ispirarci e stupirci. Machu Picchu sembra affascinante, Anna. Lo aggiungerò alla mia lista di luoghi imperdibili. Ottima scelta, John. Le meraviglie della natura non finiscono mai di ispirarci e stupirci. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Non vediamo l'ora di esplorare la bellezza dei tesori naturali del nostro pianeta. Salute, John. Che i vostri viaggi verso queste meraviglie naturali riempiano il vostro cuore di meraviglia e apprezzamento per il nostro mondo. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Non vediamo l'ora di esplorare la bellezza dei tesori naturali del nostro pianeta. Salute, John. Che i vostri viaggi verso queste meraviglie naturali riempiano il vostro cuore di meraviglia e apprezzamento per il nostro mondo.